amici di facebook e youtube è diretta tramite facebook che poi viene pubblicata tramite youtube amici cari buona serata a tutti voi soprattutto allora amici grazie che vi state continuando a iscrivervi sul canale youtube questa sera amici qualcosa è accaduto a lotto stato vinto un bellissimo terno su tutte le ruote un euro 425 euro amici io questo l'ho dato in privato portate in privato questo bellissimo terno mi hanno contattato su whatsapp e hanno vinto al nono colpo di gioco amici e nono colpo voglio essere proprio super sincera non ho colpo di gioco è stato vinto 425 euro interno su tutte le ruote vi faccio vedere la schedina prima poi faccio vedere le stazioni amici un attimino giriamo giriamo la telecamera stiamo qui eccoci qua eccoci qua guardate dove vede il giorno soprattutto il giorno soprattutto si vede bene che oggi 27 vedete ok tutte un euro vedete 3 6 63 un euro terno vedete bene il giorno guardate le giorno ok ok qua vi faccio vedere le stazioni ecco qui le stazioni amici 3 6 e 63 ecco le stazioni su firenze che cosa vedete 3 6 e 63 terno lo vedete amici di facebook e youtube 3 63 63 e 6 terno con euro paga 400 425 euro paga con euro amici paga un euro 425 euro di terno su tutte le ruote più bello giocare all'otto che nemmeno a 10 all'otto serale che dice l'otto serale con un euro paga 14 euro 2 secco con un euro e 3 secco paga 51 euro e 70 invece quando si beccano i terni e quello è il terno 3 6 63 me lo ricordo a memoria si vince con euro 425 euro e la differenza cambia amici la differenza cambia è stata vinta a nono colpo di gioco mi hanno contattato in privato su whatsapp su whatsapp tramite youtube 6 e ho fatto vincere questo bellissimo terno 6 63 e 3 vi faccio vedere vi faccio vedere la schedina vincente ecco a voi 3 6 63 e 3 6 63 un euro terno ecco la giorno poi un amico gli avevo dato il 90 a genova però non se l'ha giocato non se l'ha giocato però i whatsapp ce l'ho a quella altra parte scritto va bene se no l'ho vinto anche in 90 su genova comunque è stato beccato questo bellissimo terno 3 6 63 ho fatto vincere su tutte un euro 425 vi faccio vedere di nuovo la schedina vi faccio vedere di nuovo la schedina amici ecco a voi ecco a voi amici di facebook e youtube 36 pure qua sta l'estazione guardate guardate vinto terno secco firenze firenze 6 3 63 lo vedete lo vedete lo vedete lo vedete amici e non dico stupi taggine non dico stupi taggine amici stato il giorno vi faccio vedere bene il giorno 27 lo vedete si vede si vede si vede amici come che si vede ok vinto terno secco su tutte le ruote amici è stato un bellissimo terno che è andata a segno eccoci qua torniamo su di me amici avevo dato su youtube 8 80 88 napoli palermo e poi avevo dato l'estatto 8 napoli palermo su youtube sei andato a vedere e l'ho scritto anche su facebook e primo colpo di gioco su napoli palermo è uscito solo l'80 il numero 8 è andato su roma peccato sei andato su napoli palermo l'otto se l'ha beccato l'estatto ha invece uscito solo 80 è iniziato a uscire dal primo colpo questo si continua a giocare 8 88 napoli palermo amici si continua a giocare e l'estatto 8 napoli palermo ok questa mattina è stato vinto a 10 all'8 ogni 5 minuti che mi hanno contato di interesse in privato e ho fatto vincere amici comunque buona serata a tutti voi è stato un breve video bacioni e continuate a portare 8 80 88 napoli palermo e 8 l'estatto su napoli palermo ok buona serata buona notte a tutti voi ciao amici a presto ciao